Grazie a tutti. 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 e per le associazioni di carità della Diocesi di Roma, anche alcuni representanti del Círculo di San Pedro, anche alcuni membri della Comunità di San Egidio, della coordinazione regionale della Famiglia Vicentina, del Centro Astaglia, il Servizio di Jesuità per i rifugiati in Italia, della Asociazione Cristiana di Trabagatori Italiani di Roma e altri gruppi e altre instituzioni che sono presenti il giorno di oggi in Asis. Seguimos in espera del Papa Francisco che possa arrivare a la Porcíncula per poter dare inizio a questo momento di incontro e di testimonio e orazione con i poveri in Santa Maria di Los Ángeles. Per questa quinta giornata il Papa Francisco ha dato a conoscere il suo messaggio, un messaggio che arriva a sua quinta edizione. in suo messaggio che ha stato pubblicato il 13 di Junio in la fiesta di San Antonio di Padua, il Papa ha escogito come lema «A los pobres lo tienen sempre con ustedes», un lema che ha stato pubblicato dal Evangelio di Marcos, capítulo 14, versículo 7. Questo lema è elegito per promuovere precisamente la giornata di questo anno, la giornata mondiale di questi anni. in suo messaggio il Papa Francisco soprattutto destaca la importanza del encuentro e la accogida, ha sido un messaggio abbastanza sentito in cui il Papa parte delle interpretazioni che che ha dato a questo tema di questa scena in cui vediamo a una mujer che entra in la casa di Simón, che aveva invitato a Gesù per poter cuore. Entra questa mujer con un frasco di alabastro lleno di un perfume molto valioso e lo derrama sobre la cabeza di Gesù. Il Papa dice che questo è un gesto che suscitò un gran asombro e maraviglia tra le persone che partecipano in questa scena. Di una parte abbiamo la reazione di gli appostoli e le persone che stavano in la casa di Simón, una reazione di indignazione, signale il pontifice, di alcuni di loro, perché dicono che questo perfume tan valioso podía costare 300 denarii equivalente al salario anual di un obrero di ese tempo. Quindi pensano che abbia stato meglio vendere il perfume e lo recaudato darlo a i pobres. Secondo il evangelio di Juan, fu Judas quien si è stato intorprete di questa opinion. Il Papa dice che non si ha venduto questo perfume per 300 denarii per darlo a i pobres. Il evangelista dice che questo non lo dice perché le importaban i pobres, sino perché era ladrò e come aveva la bolsa del tindro in comune, robava di lo che avevano in ella. Non è una casualità, signale il Papa Francisco, che questa dura critica salga di la bocca del traidor, sino che è la prova di chi non riconosce a i pobres e traiciona la insegnanza di Gesù e non possono essere i sui discípoli. La seconda interpretazione che ha il Papa Francisco a questa scena è di che le parole che Gesù pronuncia al rispetto e ci permette di capire il sentimento profondo del gesto che ha realizzato questa mujer. Il Papa dice che il evangelio nos ha detto in il versículo 6 che Gesù le dice «Déjenla, perché la molestano? Ha fatto una obra buona conmigo». Gesù sabía che sua morte stava cerca e vio in ese gesto realizzato per la mujer la anticipazione della unzione di suo corpo sin vita antes di essere deposto in il sepulcro. Questa visione va più allà di qualche expectativa di i comensali. Gesù le ricorda che il primo pobre è lui, il più pobre tra i pobres perché lo rappresenta a tutti. E è anche il nome di i pobres di le persone soli, marginati e discriminati che il Hijo di Dio accepto del gesto di quella mujer. Questa mujer con sua sensibilità femenina dimostrò essere la unica che comprende il stato di animo del Signore. Questa mujer anonima del quale il Evangelio non ci dice come si chiamava sta destinata quizà per questo a representare a todo il universo femenino che a lo largo dei secoli non tendrà voz e sufrirà violenza. De questa maniera, señala il Papa che questa mujer inaugurò la significativa presenza delle donne che partecipano nel momento culminante della vita di Cristo. Momenti come la crucifixione, la morte, la sepoltura e sua apparizione come resuscitato. Sono precisamente le donne le donne le prime a essere testigos di la resurreczione di Gesù. Las donne, mani come strimentati e mantenuti al marco dei posti di responsabilità in leinformazioni delle e delle rhetorzioni, sono le donne come protagoniste nella storia della Revelazione. E se lo conta la expresione finale di Gesù in il sensaggio del Papa che asocia a questa mujer alla gran misione evangelizzata. Il Evangelio dice che per honrare la sua memoria in ogni parte del mondo, dove si proclame la buona notizia, se contará lo che lei ha fatto con me, in le parole di Gesù. Quindi possiamo vedere in questo messaggio e in questa scena che ha comentato il Santo Padre, una forte empatia tra Gesù e la mia, e il modo in cui Gesù interpretò su unione, in contrasto con la visione scandalizzata che avevano i comensali, empezando per Judas e i altri. E così si abri un cammino fecundo di riflessione sull'unico inseparabile che hai tra Gesù, i i i l'anuncio del Evangelio. E questo è importante resaltare perché saranno sicuramente i temi dei quali il Papa Francisco ci parlerà il giorno di oggi, la relazione che hai tra Gesù, i i i l'anuncio del Evangelio. Mientras seguimos in espera di che il Santo Padre arrivi qui a la Basilica di Santa Maria di Los Ángeles, in Asis, continuiamo dando a conoscere questo messaggio che ha stato pubblicato con occasione di questa quinta giornata mondiale di los pobres. È così che il rostro di Dio che revela, di fatto, è di un Padre per i pobri e un Padre cercano a loro. Tutta la obra di Gesù afirma che la pobrezza non è frutto di la fatalità, sino un signo concreto di sua presenza tra noi. Non lo troviamo quando e dove chassi, ma che lo riconosciamo in la vita di los pobres, in su sufrimiento e indigencia, in le condizioni a veces inhumani, in le che si ven obligati a vivere. Per questo il Papa dice, non mi canso di ripetire che i pobri sono verdaderi evangelizzatori, perché fuero i primi in essere evangelizzati e fuero i primi chassi a comprare la benaventura del Signore e il suo Reino. Il Papa concluye dicendo che i pobri in qualche condizione e in qualche latitud sono i che ci evangelizzano, perché ci permettono redescubrire di maniera sempre nuova i rasgos più genuinos del rostro. È per questo che oggi la nuova evangelizzazione è una invitazione a riconoscere la forza salvifica di loro e a ponerle loro nel centro del cammino della Iglesia. È così che, queridos amici, siamo compartendo con voi questi momenti di esperanza del Papa Francisco per dare inizio a questo incontro con i pobri. Al final di suo messaggio, il Papa dice che questa giornata mondiale dei pobri, che arriva a sua quinta edizione, arraiglia cada più in nostri iglesi locali e si abri un movimento di evangelizzazione che in prima instanza salga al encuentro dei pobri, allì dove stanno. Il Papa dice, non possiamo aspettare che chiamano a nostra porta, è urgente che vanno noi a trovare loro in loro in loro casa, in le hospitali, in le residenze assistenziali, in le calles e in le rinconi oscuri dove a volte se sconden, in i centri di refugio e accogida. È importante entendere come si sentono, che percibano e che desideri hanno nel coraggio. Per questo, invita il Santo Padre, facciamo le nostre appremiante parole di Don Primo Mazzolari, che diceva, «Quiziera pedirles che non me pregunten se c'è pobri, chi sono e quanti sono, perché temo che tali domani rappresentano una distraccione o il pretexto per apartarsi di una indicazione precisa di la conoscenza e del coraggio». «Nunca he contato a los pobres, perché non se possono contare, a los pobres se les abraza, non se les conta». E questa è la invitazione finale del Santo Padre, «Los pobres stanno entre noi», che evangélico seria se pudiéramos dire con toda verità, «Tambi noi siamo pobres», perché solo così logriremo riconoscereli realmente e farlo parte di nostra vita e instrumento di salvazione». «Tambi abbiamo potuto vedere che, come è abituale, il Papa Francisco encomienda al Pontificio Consello per la Nuova Evangelizzazione, le diverse attività e attività per la celebrazione di questa Quinta Jornata Mundial dei Pobri. Una di queste attività è precisamente il encuentro del Papa Francisco con i pobres di Asis, che stiamo transmitendo, ma anche altre attività che il Pontificio Consello per la Promozione della Nuova Evangelizzazione ha stabilizzato. Entre leggi possiamo destacare la celebrazione della Santa Misa in la Basilica di San Pedro, questo domingo 14 di noviembre a le 10 di mattina, una celebrazione che anche Vatican News transmitirà e llevarà a sus hogares. In questo giorno il Papa presiderà la Santa Misa in la Basilica di San Pedro con la partecipazione di 2.000 persone pobres in cumplimento ovviamente delle normative sanità per evitare la propagazione del Covid-19. Participaranno le associazioni di volontariato presenti nel territorio di Roma, le letture e le orazioni dei fieli saranno proclamate per alcuni pobres, e al final di la celebrazione si distribuirà comida caliente a tutti i participanti. La participazione è abierta e possono farlo tutte le persone che sono in la capital italiana. Otra iniciativa è la distribuzione di alimenti. Il Pontificio Consello per la Promozione della Nuova Evangelizzazione ha dedicato questo anno a cui poter comparte una attenzione speciale con le casas-hogar che si trovano in la Diocesis di Roma. Estas casas-hogar sono strutture che accogono a persone, a menudo ofreggendo incluso alojamento principalmente a adolescenti e a donne, junto con le donne che necessitano urgentemente essere protegiti e avere un luogo dove possano crescere, ricevere una educazione e avere la possibilità di cominciare una vita nuova mediante la integrazione graduale in la società, in questo caso in la società italiana. In il territorio di Roma c'è un gran numero di casas-hogar di differenti caratteristiche che offreggendo diversi tipi di assistenza, per questo le necessità materiali per la gestione di queste strutture sono a menudo considerabili e non sempre è possibile rispondere adecuatamente a tutte le necessità. E' così che il Pontificio Consello e il Papa Francisco hanno decidito, grazie a la generosità di alcuni instituzioni e soprattutto di alcuni supermercati, poter abastecer di suministro di pasta, di alcuni alimenti importanti, per aiutare a 40 casas-hogar, per aiutare a 50 casas-hogar, per aiutare a 50 casas-hogar, per aiutare a 50 casas-hogar, che hanno programmato distribuire 5,000 kits di prodotti basi per la salute e il cuidado personal in una 60 parroquias di Roma, che poi potrebbero distribuire a le familii più necessitati di ogni jurisdiczione ecclesiale. Asimismo, il Pontificio Consello per la Nuova Evangelizzazione sta promovendo questa campagna che si chiama En Busca del Virus, già che, debido a la restriczione causata per la pandemia, non è stato possibile installare il centro di salute in la Plaza di San Pedro durante i due ultimi anni, però la struttura si è mantenuta ancora attiva e è che si è diventato in un hospital mobile, è così che differenti medici e persone volontarie stanno attendendo gratuitamente a persone pobres in diversi locali della capital italiana, è così che questo domingo, dopo la Santa Misa, anche in la Plaza di San Pedro per poter attender a tutti i participanti in la celebrazione eucaristica per la Quinta Jornata Mundial di los Pobres. Otro aspecto importante di questa campagna di salute En Busca del Virus è che questa camionetta sarà equipata per poter realizzare prievi per detectare la presenza del virus del hepatitis C e del virus del HIV, del SIDA, che saranno presenti anche in la Plaza di San Pedro per poter fare queste prievi. Finalmente, una iniciativa che resalta questo Dicasterio Vaticano sono i servizi di electricità e gas che saranno pagati per una 500 famiglia che attraversano difficoltà economica e suelen acudire a los centros di carità. Per a loro, il Pontificio Consello per la Nuova Evangelizzazione ha destinato una quantità di dinero per pagare le facture di gas e electricità. Finalmente, questo Dicasterio ha elaborato un subsidio pastoral per poter vivere di modo concreto in ogni parroquia, in ogni famiglia, in ogni centro questa Quinta Jornata Mundial di Pobre in questo subsidio pastoral possiamo trovare il messaggio del Papa Francisco per questo anno e anche la homilia che ha pronunciato l'anno passato per questa giornata e possono anche trovare diverse orazioni per questo giorno. Ci sono informato che il Santo Padre è arrivato a Asis e si è detenito un momento in la Basile di Santa Clara per poter visitare le caratteristiche per questo è per questo che sta demorando un po' in arrivare a la Basile di Santa Maria di Los Ángeles il Papa Francisco ha salito a le 8 di la mattina di su casa qui in Santa Marta e si è dirigito a Asis ha arrivato allì e ora sta facendo una visita fuori del programma ha stabilito a las Clarizas si ha querido detener un poco con ellas per mostrarle su cercanía così in breve in breve in breve minuti di Anche le persone in le parroquie e le famiglie possono chiedere a una persona con una enfermedad terminal che scrive una orazione per i fieli che potrebbe essere leita durante la celebrazione eucaristica di questo domingo. També invita a una persona pobre a partecipare in un encuentro, in una esperienza di perdone, di misericordia, di encuentro promovendo il sacramento di la reconciliazione. També invita a la famiglia e a le persone in le parroquie a ofrecer comida, alimenti, ropa a los pobres e juguetes per i bambini, in un momento poter comparten, in un momento di orazione, rezar con loro e, meglio ancora, pedirles che ofrezzano la orazione loro mesi, permettendoles expresare la unione con Dios. També sta in marcha la campagna Nadie come solo, animando a tutte le famiglie a fare almeno una comida juntos cada dia, per poter mostrare questa solidarietà con i pobres. També invita a tutte le famiglie a tutte le famiglie a poter acoglieri a le famiglie soltere con i bambini in un momento di encuentro e partecipare in la parroquia per poter bendicire, soprattutto a tutti i bambini che si trovano con le famiglie soltere. E anche perché non con i bambini soltere, con i bambini soltere, con i bambini soltere, con i bambini soltere, con i bambini soltere. Asi, otra iniciativa, otra proposta pastoral per questo giorno è anche patrocinar una feria del empleo in la parroquia o nel centro diocesano, in cui si possono riunire e ofrecer diverse opportunità di lavoro. Otra iniciativa è promover una colecta di jugueti per i bambini di centri di acoglia, per i bambini di violenza domestica o per i bambini soltere, per i bambini di la parroquia che doni i bambini in buon stato per poter compartirli con i bambini che non hanno. E anche se promuove e si invita a tutti in casa che ricano per le vocazioni e che ricano per i bambini che si confirmano o ricevano la prima comunione durante il prossimo anno di formazione e di catechesi. Asi, anche se invita a la pastoral carceraria a involucrar a los presos, a los che stanno in la residencia di anciano e a los che stanno in albergues, in il processo di consulta del prossimo sinodo della iglesia che il Papa Francisco ha iniziato. Anche, anche per i consagrati e consagrati di conventi contemplativi che ricano per le pareti della parroquia che si vanno a casare e così per tutte le necessità che si trovano in ogni comunità, in ogni centro parroquial. E' importante manifestare la accogida in le famiglie, in le famiglie, soprattutto a le famiglie migranti e pobres, tenendo in cuenta, soprattutto, esa escena di Gesù che huye con la Sagrada Familia Egipto e che fuero recebili. Ese passo che viveremo dentro di poco in le fiestas di Navidad e che ascoltaremo in le diverse letture di questo tempo che ci stiamo cercando. Tutti questi subsidios, tutte queste proposte lo possono trovare in la pagina web del Pontificio Consello per la Nuova Evangelizzazione, existen in diversi idiomi e altri materiali che possono aiutare a vivere la quinta giornata mondiale dei pobres di un modo concreto, di un modo molto più reale e soprattutto, come diciamo, mostrando la cercanità a le persone più necessitate di nostro entorno. Grazie. 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 canto che formano parte della celebrazione di questo momento di incontro e orazione con il Papa Francisco e questi 550 pobres che hanno arrivato da diverse parti dell'Europa in questo hermoso scenario che vediamo in la Basile di Santa Maria di Los Ángeles in Asis con questa ricordando che la Basile patriarca di Santa Maria di Los Ángeles è una iglesia situata in la llanura dei piedi della colina di Asis in la frazione di Santa Maria di Los Ángeles la basileca se construyò entre 1569 e 1679 encerrando a una piccina iglesia del siglo IX la Porcíncula il lugar più sagrato per i franciscani è lì dove il joven Francisco di Asis encontrò su vocazione e rinunciò al mondo per vivere in la pobreza entre i pobres e cominciò precisamente questo movimento che ha dato il giro a la fondazione della Congregazione di i Franciscani. La Basile di Santa Maria di Los Ángeles junto a altri lugares franciscani di Asis ha sido declarato Patrimonio della Humanità per la UNESCO nel anno 2000. È un luogo in cui dopo la morte di San Francisco in 1226 i fratelli construiron varias cabañas pequeñas al rededor della Porcíncula e in 1230 se aggiungono un reflectorio e diversi edifici auxiliares. A lo largo del tempo se fueron sumando otras construcciones e alojamientos para los fratelli al rededor della Porcíncula. a alguns cimientos di queste quest create ancora spot durante le excavazioni ad del suelo della basi lica che fu construita entre 1967 e 1969 è un luogo importante simbolo è una iglesia majestuosa è la settima in tamaño la más grande en tamaño de la cristiandad fu diseñada en un marco de estilo manigreista prefigurado el barroco por dos famosos arquitectos Galeazzo Alesi e Viñola la obra progresò lentamente en su construcción debido a la constante falta de dinero para la edificación de esta basi lica solo gracias a las donaciones fue posible terminar y concluir esta edificación el interior de la basi lica está compuesta por una plataforma rectangular está dividida en una nave central y dos naves laterales flanqueadas por 10 capillas laterales con un traspeto en el externo y un largo coro en un ábside semicircular destacando la parte central de la basi lica la porcínculo queda situada directamente debajo de la cúpula la iglesia tiene 126 metros de largo 65 metros de ancho y la cúpula mide 75 metros de alto el interior es simple como vemos en imágenes pero elegante con pocas decoraciones en claro contraste con las capillas laterales la nave y los pasillos laterales se reconstruyeron en estilo dórico neoclásico el ábside alberga un precioso coro de madera tallado por los hermanos franciscanos a partir de 1689 y es así que vemos estas también pinturas estos frescos que se encuentran dentro de la parte de la porcíncula y también en las capillas laterales acerca de la porcíncula podemos decir que significa esta pequeña iglesia la pequeña iglesia que es el lugar más sagrado para los franciscanos donde san francisco recibió y consolidó su vocación esta pequeña iglesia data del siglo 9 la iglesia es decorada por artistas de diferentes periodos sobre la entrada hay un fresco de joan frederick oberk que representa san francisco recibiendo de criste de la virgen la indulgencia conocida como el perdón de asís la pared lateral del lado derecho representa y muestra fragmentos de dos frescos de artistas humbros desconocidos el austero el interior es bastante austero está decorado en un simple estilo gótico con frescos del siglo 14 y siglo 15 la obra más destacada en la porcíncula es el fresco en seis partes en el ábside de esta pequeña iglesia pintado por hilario de viterbo y en la parte posterior se encuentra otro fresco que representa la crucifixión de pietro perugino esto es lo que podemos decir mientras en imágenes observamos también el logo y el lema de esta quinta jornada mundial de los pobres en este logo y en este lema podemos apreciar que esta quinta jornada mundial de los pobres se ve una puerta abierta y dos personas de pie al borde de la misma ambas tienen la mano una pide ayuda y la otra la ofrece de hecho es difícil entender cuál de los dos es el verdadero pobre o mejor dicho si ambos son pobres el que tiene la mano para entrar pide compartir el que tiene la mano para ayudar es invitado a salir y compartir son dos manos extendidas que se encuentran donde cada uno ofrece algo dos abrazos que expresan la solidaridad y que provocan que uno no se quede en el umbral sino que salga al encuentro del otro el pobre puede entrar en la casa una vez que los de la casa han comprendido que la ayuda es compartida es por ello que el lema de esta quinta jornada a los pobres los tienen siempre con ustedes es una invitación a no perder nunca de vista la oportunidad que se nos ofrece para hacer el bien procurando que se cumple el deseo del papa francisco y de que la jornada mundial de los pobres pueda arraigar cada vez más nuestras iglesias locales y abrirse a un movimiento de evangelización que salga al encuentro de los pobres en primera instancia allí donde se encuentren como hemos dicho que no es necesario que vayamos a buscarlos que no es necesario que ellos vengan a tocar la puerta y nosotros salir sino que la iniciativa debe de partir de nosotros para poder ir a su encuentro este es un poco la invitación y el sentido de esta quinta jornada que el papa francisco en su mensaje nos ha resaltado y nos ha invitado a realizar es importante dice entender cómo se sienten que perciben y qué deseos tienen en el corazón por ello es importante que hagamos nuestra las apremiantes iniciativas que se hacen en esta jornada hay que ir a buscarlos es urgente que vayamos a encontrarlos en sus casas en los hospitales en las residencias asistenciales en las calles en los rincones oscuros donde a veces se esconden en los centros de refugio y acogida y 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 Grazie a tutti. 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 Ora il Papa si detiene per poter vedere questa pancarta che hanno fatto un gruppo di niños dove le dicono, benvenuto e siamo felici che hai raggiuto. Molti bambini in edad escolar stanno partecipando in questo incontro con banderas e stanno recebendo al Santo Padre in la terra di San Francisco di Asis. Il Papa sta alentando e animando a i diversi gruppi di persone, di fielesi che stanno qui. Il Papa sta rispondendo, vediamo a i membri della Renovazione in il Spirito che stanno presenti in questo incontro, che stanno accompagnando al Santo Padre in questo momento di orazione e di testimonio. È per questo che il Santo Padre scrive in suo messaggio che la insegnanza di Gesù anche in questo caso va a contracorriente, perché promete lo che solo gli occhi di la fede possono vedere e sperimentare con absoluta certezza. E tutto il che rimanere casa, figli e figli, figli, figli o campi per mio causa, riceverà cent' volte e più e heredere la vita eterna, dice il Evangelio di Matteo. Se non si elige convertirsi in pobres di le ricchezza effimeri, del potere mondiale e della vana gloria, non si potrà dare la vita per amore. Si vivi una existenza fragmentaria, piena di buoni proposti, ma inefficace per trasformare il mondo. Se tratta, portanto, afirma Papa Francisco, di abrirse con decisione alla grazia di Cristo, che può facernos testigos di sua carità senza limiti e devolver credibilità a nostra presenza in questo mondo. È per questo che il Evangelio di Cristo impulsa a essere specialmente attenti a i pobres e pide riconoscere le múltiples e demasiate forme di disordine moral e social che generano sempre nuove forme di pobreza. Parece che si sta imponendo la idea di che i pobres non solo sono responsabili di sua condizione, ma che constituent una carga intolerabile per un sistema economico che pone nel centro i interessi di alcune delle categorie privilegiate. Per esempio, un mercato che ignora o selecciona i principi étici crea condizioni inhumaniche che si abate sulle persone che già vivono in condizioni precarie. Quindi si asiste alla creazione di trampas sempre nuove di indigencia e exclusione producidas per attori economici e finanziari senza scrupoli, carenti di sentimento humanitario e di responsabilità sociale. A tutto questo sistema che il Papa denuncia in suo messaggio, a tutti questi esempi che sta ponendo, il signale che il anno passato si aggiungi un'altra plaga che produjo ulteriormente più pobreza, è la pandemia. Questa segue tocando le porte di mille persone, e quando non trae consigo il sufrimimento e la morte, è, di tutte le mani, portatore di pobreza. Il Papa Francisco già è ricevito per Monsignor Rino Fisichella, il presidente del Pontificio Consello per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che lo riceve nel atrio della Basile di Santa Maria di Los Ángeles, qui in Asis, e lo invita e lo accompagna a ingresar a la Basile, a llegar hasta la Porcíncula per poter iniciare questo momento di encuentro. Monsignor Fisichella sta explicando come sta composto questo gruppo di 550 pobres che partecipano e anche di questo momento di orazione. Quindi, in breve momento, ci siamo dando inizio a questa celebrazione. Ci saluto a tutti i fratelli menoli che assistono e servono in questa parroquia, e anche il saluto a Monsignor Domenico Sorrentino, arzobispo di questo territorio ecclesiastico di Umbria. Saluto anche a le autorità civili e religiosi che si hanno dato cita, a la alcaldessa di Asis e anche al presidente della regione di Umbria, che accompagnarà al Santo Padre in questo evento, in questa celebrazione. Con tutti i loro il Papa intercambia un gesto, un saluto, a le autorità civili che sono presenti, che in questo momento facendo un presente al Santo Padre, come benvenimento e ringrazie a questo evento. Parlando precisamente di questa pandemia, che ha afectato da l'anno passato a tutto il mondo, il Papa señala che i pobri, a causa della pandemia, ha aumentato desproporcionatamente, e, per desgraccia, seguirà aumentando nei prossimi mesi. alcuni paesi, a causa della pandemia, stanno facendo gravissime conseguenze, di modo che le persone più vulnerabili sono privati di i vieni di prima necessità. Le larghi fili frente a i comodori per i pobri sono un signo tangibile di questo deterioro, dice il Papa. Una mirata attenta exige che si trovano le soluzioni più adecuate per combattere il virus a livello mondiale, senza apuntare a interessi partidisti. In particolare, è urgente dare una risposta concreta a quienes padecen il desempeo, che colpea drammaticamente a molti padri di famiglia, mullere e giovani. La solidarietà sociale e la generosità di cui molti persone sono capace, grazie a Dio, uniti a proietti di promosione humana a largo plazzo, stanno apportando e apportaranno una contribuzione molto importante in questa coyuntura. In questo momento, il Papa Francesco sta ricevendo il mantello e il bastone che abbiamo annunciato, la capa con la qual il Papa Francesco, ugual che San Francisco di Asis, come peregrino, ingresa in la basilica. Estos due giovani, questi due membri di una casa di acogida, dan la benvenida al Papa Francesco e gli sta explicando un po' la esperienza che loro hanno di vivere e di essere accogida in queste casas di asistencia. De questa maniera, si sta ricordando i gesti di San Francisco, che accogia e recibia, non solamente a los frailes, sino anche a los pobres, in questa piccola, in questa piccola, di la porcincola. Il Papa già sta con il bastone in la mano, come lo ha fatto San Francisco in su tempo, ora incontandose, extendendo la mano e caminando junto con i pobres. Este joven di origine africano sta dando a conoscere la esperienza, il recorrido che ha realizzato huendo da la guerra e arrivando a Italia per poter avere un futuro migliore. qui ha incontrato una esperienza di solidarietà in le persone, in i volontarii che lo hanno ricevuto e sta contando su esperienza di vita al Santo Padre. Sta dando a conoscere su testimonio di benvenita. il Papa con questa persona la saluda, bendice e anche bendice a le persone che la accompagnano. In questo momento il Santo Padre procederà al interior della Basile di Santa Maria di l'Alles di l'Alles l'Alles dell'Alles dell'Alles Il Papa ha fatto la mano di uno di loro, di questo gruppo di persone che hanno dato la benvenita e ha rezzato in un momento in silenzio. Si ha detenito in orazione e ora sta ascoltando il testimonio di questa seconda persona che forma parte di questo comitè di benvenita al Santo Padre al ingresso della Basilica di Santa Maria di Los Ángeles. Grazie. 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 Grazie a tutti. Tutti i paesi stanno sperimentando le conseguenze di questa pandemia mondiale e le conseguenze soprattutto di precarietà in molti familiari, in molti membri, in molti mujeres che hanno perduto il lavoro, che hanno di un momento al l'altro quedato senza questa fuente di sostegno familiare. Questa persona continua explicando su esperienza, continua dando a conocer su testimonio al Papa Francisco e compartendo con él, il Santo Padre escucha atentamente tutto lo che le sta dicendo che il Signore va leggendo da su telefono móvil. È così come il Santo Padre dà inizio a questo encuentro di testimonio, di cercania, di orazione con i poveri. per conmemorare questa quinta giornata, in cui signale il Papa che a tutti i poveri sempre lo vamos a tener. Ese evangelio di Marcos che ci ha parlato di questa scena importante. Il Papa Francisco continua su recorrido, continua avanzando con il bastone in la mano che ha ricevuto, recordando il gesto di San Francisco, salutando a la gente, bendicendo a i bambini e così manifestando anche la sua felicità di poter trovare e ricevuto in questa terra di San Francisco di Asis. Una terra simbola e il simbolo, soprattutto, di come un hombre, di come una persona dedicò su vita, dedicò tutta la sua existenza a poter servir e atender a i bambini. San Francisco di Asis che generò molti seguitori, su esempio che pudo attraer, non solamente a i bambini, ma anche a i bambini, ma anche a i bambini, ma anche a i bambini. E in Santa Clara vemos la concrezione di questo testimonio di San Francisco. Vemos un gruppo di persone di España con la bandera che salutano al Papa Francisco, persone di America Latina che anche sono presenti in Asis, qui in la Basilica di Santa Maria di Los Ángeles. Uno di loro gli ofreste un gruppo di polacos che anche si trovano partecipando in questo incontro di orazione e testimonio. Hacen arrivare un presente al Papa Francisco, è un gruppo di una associazione caritativa che hanno arrivato da Polonia e che sono presenti in questa quinta giornata mondiale dei pobres. Grazie a tutti. Una persona ha entregato un quadro al Papa Francisco e così tutti i fieli si extiendono la mano per poter salutare al Pontifice e anche ricevere la bendizione. Vemos anche una bandera di Croazia. Come dicevamo al inizio della trasmission, sono molti i pobres che hanno venuto da diversi lugares, non solo di Italia, ma anche di Europa. Presente qui persone con discapacità, bambini che sono attendati da diverse instituzioni caritativi, sacerdoti, religiose, catequisti, famiglii, sono presenti in questo incontro di orazione e testimonio con il Papa Francisco. Francisco, amigo, fratello, 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 fratello. Sono persone che, da molto temprano, alle ore di la mattina, hanno stato sperando al Santo Padre per poter tenere un momento qui, compartir con il, e soprattutto rezar junto a il, per gli pobres e per le persone che hanno maggior necessità. In questo momento il Santo Padre benedice a una persona con discapacità e continua questo recorrido, un recorrido che in suo tempo sicuramente San Francisco di Asis lo aveva realizzato. San Francisco di Asis lo aveva realizzato. San Francisco di Asis lo aveva realizzato. San Francisco di Asis lo aveva realizzato a la Basilica di Santa Maria di Los Ángeles. Sono le 9.53 di la mattina e il Papa Francisco già fa il suo ingresso qui a la Basilica di Santa Maria di Los Ángeles. Il Papa è tutto disposto per poter dare iniziare a questo momento di incontro. Il parroco di la Basilica, un fratello franciscano, offre un ramo di flore al Santo Padre e continua a su ingresso per iniciare questo momento di incontro e testimonio. Il gruppo di Fieles lo aveva realizzato a la Basilica di Asis lo aveva realizzato. Il gruppo di San Francisco lo aveva realizzato a chi lo aveva realizzato a chi lo aveva realizzato a chi lo aveva realizzato. Il gruppo di San Francisco ci si è sguardo a chi lo aveva realizzato a chi lo aveva realizzato a chi… Il gruppo di San Francisco di Asis lo aveva realizzato a chi lo deve fare. Sono diversi i participanti di Francia, Polonia, Italia, España che hanno potuto asistir e che hanno potuto arrivare a Asis per questo incontro. Siamo tutti i nostri amici, i nostri amici e le nostre associazioni e le nostre associazioni carità in diverse parti dell'Europa. E anche un aggiornamento a tutto il gruppo di Vatican News che ha fatto un trasplazamento di persone, di enviati, di fotografici e di amici, che sono cubriendo questo incontro con il Papa Francisco. Il Santo Padre si sta acercando a la piccola iglesia, a la porcíncula, per poter iniziare questo momento, senza prima bendicire a questi piccoli i nostri amici che vediamo in silla di ruota. E anche sono membri e attenditi per instituzioni qui in Umbria e che stanno presenti in questo momento di encuentro. Il Papa da a loro sorrisi, anche giochi, intercambia con loro e gli regala a loro un rosario. Il Santo Padre si sta acercando a tutti i nostri amici e le nostri amici a tutti i nostri amici, a tutti i nostri amici, a tutti i nostri amici, a tutti i nostri amici. Il Santo Padre si sta acercando a tutti i nostri amici e a tutti i nostri amici. Il Santo Padre continua salutando e benicendo a tutti i nostri amici che sono qui nel interior della Basilica di Santa Maria di Los Ángeles. Il Santo Padre si sta acercando a tutti i nostri amici e le nostri amici. Il Santo Padre si sta acercando a tutti i nostri amici. Il Santo Padre è accaduto a tutti i nostri amici. e associazioni presenti, tra loro possiamo destacare la asociazione francesa Fratello, la delegazione proveniente di Roma, anche di la limosneria apostolica, la carità di Diocesana di Roma, il Círculo di San Pedro, la Comunità di San Egidio, la coordinazione regional di la Famiglia Vicentina, il Centro Astali, il Servizio di Jesuitati per i Refugiati, la Asociazione Cristiana di Trabajadores Italiani e altre instituzioni qui presenti, mentre già vedo al Papa Francisco che sta portando un arreglo floral, un ramo di flori per depositarlo qui al interior della Porcincola, aiutato da Monsignor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, ha deixato in il altar questo ramo di flori e ora toma il suo lugar per poter dare iniziare a questo incontro. Il Papa si detiene un momento in orazione, in silenzio al interior della Porcincola di questa piccola di questa piccola che San Francisco fondò. sicuramente in la mente e nel corazone del Santo Padre sono tutti i pobri del mondo, sta pidendo, sta recogendosi un momento di silenzio, di meditazione, ante la Cruz di Cristo, esa la Cruz di Cristo Pobre, pidendo per tutti i pobri del mondo, pidendo per tutte le persone necessità, non solo persone che attraversano la necessità materiale, ma anche la necessità di soluzione. Acompañiamo al Santo Padre in questo momento di orazione, in questo momento di riflessione, in questo momento di silenzio, anche noi, pidendo per tutte le persone che conosciamo, per tutte le persone che troviamo in le街, per tutte le persone che vediamo in le街, per tutte le persone che attraversano la necessità, per tutte le persone che sono attraversano una necessità spirituale. Questo è il momento di presentarli al Altar del Signore, ante la Cruz di Gesù, in questa piccola iglesia. Abre il nostro coraggio per poter dire, Signore, te pido per questa necessità. Signore, te pido per questa persona. Signore, te pido per questa situazione che sta attraversando la mia famiglia, che sta attraversando questa famiglia che sta attraversando questa persona. opened la mia famiglia, che sta attraversando la mia famiglia. In questa situazione, è una famiglia che sta attraversando questa famiglia, che 2 Grazie a tutti. 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 È la giornata mondiale dei poveri. Grazie a tutti. 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 Dopo il nostro matrimonio abbiamo ridetto un grande sì alla missione per essere di nuovo inviati da Misericordia come coppia missionaria. Noi possiamo dimostrare che anche con molta fiducia e l'abandone non è sempre facile di lasciare andare a ciò che Dio ha prezato per noi. Bisogna lui domandare ogni giorno di dire sì con tutto il nostro cuore. Noi possiamo testimonare che anche se cerchiamo di avere un'abandone che, a pesar di che abbiamo tanta fiducia nel l'abandone, non è sempre facile lasciare essere portato per lo che Dio ha prezato per noi. È necessario sempre chiedere ogni giorno di poter dire il nostro sì con tutto il nostro cuore. Nostra figlia celeste è arrivata in giulio e, a sua maniera, da prima sua nascita, è stata già missionaria. Tutto il quartiere ha aspettato l'arrivata con impatienza. Ancora nel vento di Florence, è già abitato le porte e le cuore. Nostra figlia celeste è arrivata a luglio. Nostra figlia celeste è arrivata in giulio passato. Nostra figlia celeste è arrivata in giulio passato. È una piccola missionaria. Tutto il quartiere sperava l'arrivata con impatienza. Incluso dentro del vento di Florence, già aveva e batia il cuore. Nostra figlia celeste è arrivata in giulio passato in giulio passato. Nostra figlia celeste è arrivata in giulio passato in giulio passato. A volte è erita da una grande pobreza materiale, ma anche una pobreza spirituale e una pobreza in relazioni. Nostra figlia celeste è arrivata in giulio passato in giulio passato. Nostra figlia celeste è arrivata in giulio passato in giulio passato in giulio passato. e possiamo dar testimonio che è il Signore il che ci ha aiutato a aiutare ai poveri. Sono loro che il Signore ha elegito per trasmettere la sua ternura e la sua bondi. Nostra figlia e l'exigenza della missione, un sentimento profondo abita il nostro cuore. Come una calore riconfortante, audace e fiducia. La calore di Dio. Il Signore che ha un plan di santità per tutti per tutta l'eternità. Il Signore ha detto ogni giorno nella priera, io sono lì, non credo. A pesar di le dubbi e le exigenze della missione, un sentimento profondo abita in nostro cuore. Come un calore che dà consapevole, audaz e fiducia. Questo calore di Dio, che è il Padre che ha un progetto di santità per tutti per tutti per la eternità. E che ogni giorno dice in la orazione, Io sono lì, non c'era bambino. Grazie, Santo Padre, per il don di vostra presenza qui a Assis, con noi tutti. Grazie, Santo Padre, per il don di vostra presenza qui a Assis, con noi, noi ci sono andiamo a le vostre presenza e ci sono felici di accoglierlo e di accoglierlo in Parigi in sua visita a Francia. Il Papa Francisco saluta a questa parella, conformata per Celeste, la piccola niña di 4 mesi, Florence e il suo esposo, a chi non c'era bambino a chi regala un rosario e grazie per questo testimonio di una parella misionera, di una parella che vive entre gli più necessitati di le nostre periferie di Parigi. È così che il Papa saluta e intercambia con loro questo gesto di cercania e di alegria. Grazie, Santo Padre, grazie a tutti. Grazie, Santo Padre, grazie a tutti i fratelli della mia madre chiesa. Il mio nome è Sebastià del Valle, sono di Palma di Mallorca, España. Nonostante da un anno e mezzo, habito a Toledo dove il Signore ha transformato la mia vita. Nacì in una famiglia sencilla e católica, sono il piccolo di 5 fratelli. Mi ricordo di infanzia sono i di un figlio felice, specialmente destaco i momenti vivi con mia abuela e con mio tío. Con mia abuela perché mi transmito la fe e mi insegnò a rezar. Recuerdo i momenti rezando il rosario con lei. Per questo è tan speciale per me e con mio tío perché si dedicava alla doma dei caballi di Rejonio. E passava buoni momenti con lei montando il caballo. Sono nato in una famiglia semplice e cattolica. Sono il più piccolo dei 5 fratelli. I ricordi della mia infanzia sono quelli di un bambino felice. Sottolineo i momenti vissuti con mia nonna e mio zio. Con mia nonna perché lei mi ha trasmesso la fede e mi ha insegnato a pregare. Ricordo i momenti quando abbiamo pregato il rosario insieme. Per quello questa preghiera è molto cara per me. Mio tzio adomesticava i caballi per la corrida. Ricordo i bei momenti cabalcando insieme. Mi abuelo e mio tío perteneciano alla legione extranjera. E io tambien volevo essere come di loro. Per questo motivo aprendi arte marziale mistas e adrestamento militare. Durante la adolescencia e la juventù questa formazione provocò in me un cambio dejando atrás la inocenza di un nino e mi ha fatto creermi superior. Comenze a essere un chico violento metendomi constantemente en lios e peleas. Questa attitud mi ha fatto la attenzione di persone che in mio barrio si dedicavano al tráfico di drogas. Apenas di rendere conto... Io ero uno di oggi. Abandoné i studi con 15 anni e cominci a consumir drogas. Mi nonno e mio tío appartenebano alla legione extranjera. E io volevo essere come loro. Per questo motivo ho imparato le arti marziali e adestramento militare. Durante la mia adolescenza e giuventù questo adestramento provocò un cambiamento in me. Ho smesso di essere un bambino e mi sono creduto superiori agli altri. Ho cominciato ad essere un ragazzo violento, lottando frequentemente con le persone. Questo atteggiamento chiamò l'attenzione delle persone che nel mio quartiere trafficavano droga. Senza accorgermene, ero già uno di loro. Ho lasciato gli studi quando avevo 15 anni e ho cominciato il consumo di droga. Subito ho capito che potevo guadagnare denaro di forma veloce e vivere con i lussi che il mondo mi offriva. Feste, motociclette, macchine di alta gamma, donne, eccetera. Senza rendermi conto, stavo facendo del male a me stesso e agli altri. Sono diventato una persona diversa da come ero. Non mi conoscevo più. Non mi conoscevo più. Salvo di prisione e lasciato la mia vita di delincuenza. A través di un amico comencé a lavorare come feriante. Anche io non volevo cambiare, la vita di feriante mi proporcionava molto dinero e anche accesso a molti viciosi in la notte e non levantava la cabeça. Nel momento, come a tantissime altre persone nel mondo, mi sorprendì la pandemia e mi quedo solo e senza lavoro in la calle. Durante varias semanas estuve durmiendo in la calle. Un sacerdote al que pedí ayuda me recibió con una sonrisa. Me mirò e me dijo Te voy a ayudar. Era il pàrroco di un po' di Toledo. che si chiama Amor. De Toledo. E il nome è del sacerdote di un Santiago Gonde. Me llevo al centro per persone sin lugar. che il carri di un sacerdote di un sacerdote di un sacerdote di un sacerdote di un sacerdote. lo necessario per vivere. Tenia molta comida e stava a salvo della pandemia. Quando terminò il confinamento nel centro di persone nos dicono che un gruppo veniva tutte le settimane per fare orazione della pancia con tutti che stavano nel centro. Algo dentro di me mi chiamava e così lo ho. Non conosco questo tipo di orazione. La musica poco a poco cominciò a sentirmi querido per Dio dopo tanti anni. Un amico al che io chiamo mio angelo grande mi invitò a partecipare in un seminario di vita nel spirito. Non saprei che questo seminario iba a cambiare la vita. Stavo peggiorando sempre di più al punto di comitere alcuni deliti che mi hanno portato in prigione. Il primo giorno in prigione un altro prigioniero mi ha tolto il rosario che portavo nel petto. In quel momento ho sentito che Dio mi aveva abbandonato. Ben che avevo l'intenzione di confessarmi sembrava che i miei peccati non sarebbero perdonati perché avevo fatto tanto male. Quando sono uscito di prigione ho voluto lasciare indietro la vita cattiva e tramite un amico ho cominciato a lavorare alle ferie. Io volevo cambiare essere migliore ma quella vita mi dava molto denaro e sono tornato ai vizi durante la notte. Non riuscivo ad alzare la testa. In quel momento come a tante persone la pandemia da Covid-19 mi ha sorpreso. Sono rimasto solo senza lavoro abitavo in strada. Ho chiesto aiuto a un sacerdote. Lui mi ha ricevuto con un sorriso mi ha guardato e mi ha detto io ti aiuterò. Lui era parroco di un piccolo paesino di Toledo chiamato Mora de Toledo suo nome è Don Santiago Conde. Lui mi ha portato al centro di persone senza tetto della Caritas di Toledo. In quel posto mi sono sentito accolto e mai mi ha mancato lo necessario per vivere. Avevo un tetto cibo e soprattutto ero a salvo della pandemia. Quando era finito il confinamento abbiamo ricevuto la notizia che un gruppo di preghiera arrivereva da noi ogni settimana per pregare insieme. Qualcosa nel mio cuore mi diceva di andare e l'ho fatto. Io non conoscevo il metodo di preghiera con la musica ma piano piano con quel modo di preghiera ho sentito l'amore di Dio dopo tanti anni. Un amico al quale chiamo mi Angelo Grande mi ha invitato a partecipare in un seminario chiamato Vita nell'Espirito. In quel momento non sapevo che questo seminario trasformerebbe tutta la mia vita. La sanazione che sperimenté in questo seminario è intrescrittibile. Mi confessé con un sacerdote durante más di tre ore e mi senti molto amato. Recibì il bautismo di Vita nell'Espirito che trasformò il mio coraggio. Durante i giorni non sape perché mi trovo plenamente felice e lo comparti con i miei compagni perché mi trovo plenamente felice e lo comparti con i miei compagni che pensavano che mi avevo volto loco. Segui con la alabanza e cada vez più enamorato di Gesù Cristo. A los pochi mesi mi invitarono a fare il retiro di Maus. Al igual che per il seminario le dite a mio angelo grande però che è un grande un bel apporto di Dio. Fuera gratuito però così è tengo esperienza di ello. in Maus supe che Gesù estaba vivo e che mi aveva salvato e dando di nuovo la vita durante un tempo di mia vita tuve che mendigare per vivere però ora sono un mendigo della por e della misericordia di Dio. Gesù Cristo ha resucitato. In verità ha resucitato. Gloria a Dio. La salute che ho esperimentato è indescribibile. Mi sono confesato con un prete per tre ore e veramente mi sono sentito amato ho ricevuto il battesimo nell'espirito che ha toccato il mio cuore durante i giorni seguenti senza sapere il perché ero pienamente felice e quando lo dicevo ai miei compagni loro dicevano che ero pazzo ho continuato questo percorso di lode e amore verso Gesù Cristo sono andato a un ritiro spirituale chiamato Camino di Maus ma senza soldi per pregare nonostante questo il mio angelo grande mi invitò a fidarmi della providenza divina e fu così l'esperienza di sapere che Dio prende cura di me perché mi ama va al di là di tutto quello che io pensavo tutto ha un prezzo ma l'amore di Dio è gratis e io lo ho visto in realtà in questo retiro spirituale ho saputo che Gesù è vivo mi ha salvato e mi ha donato una vita nuova per un tempo ho mendicato per vivere oggi sono un mendicante del amor e della misericordia abbiamo ho ascoltato il testimonio di Sebastiano del Valle Dias questa persona di España bastante conmovedora bastante sentida un testimonio di vita di tantos cambiosi che al final encuentra a Gesù a Gesù Misericordia escuchiamo il canto ora che ci ha parlato precisamente del amor di Dio che mi ha portato a Gesù l'amore grazie al Signore mia e grazie a Gesù a Gesù l'amore grazie a Gesù l'amore a Gesù l'amore a Gesù l'amore grazie a Gesù l'amore ora è il momento di dare voce a altre due testimonianze ora escucharemos altri due testimonianze uno è Gabriele Barbier di Francia e Sebastian Olszak di Polonia e Sebastian di Polonia e Sebastian Olszak di Polonia Dio Pape François Dio fratello un gran merci Dio Pape François nostro guide a l'occasione di questa giornata mondiale dei povri mi chiamo Gabriele l'associazione per l'amitié grazie di cuore caro Papa Francesco grazie di corazón querido Papa Francesco eres nostra guia in questa giornata mondiale mi chiamo Gabriele e vengo di Parisi sono della APA asociazione della amistà noi vi dimostiamo nostra grande amistà che che conosce le nostri debilità fragilità e humilazioni che noi povri in spirito possiamo trovare nostra forza in Dio nostro salvador il è nostra recompensa è grande grazie franzo di essere nostro amico nostro fratello il Signore è la nostra più grande riquezza beati poveri beati miti beati i misericordiosi benaventurati a quelli che 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 abbiamo sempre fieles in la alegria in il gozo in il amor a pesar di che a veces siamo ridiculizzati per il mondo a veces perseguidos a causa del reino però nostra recompensa è grande grazie caro Papa Francisco grazie per essere nostro amico e nostro hermano miei chers amici fratello io sono un combattivo e se come la plupart d'entre voi ho connu il desespoir e l'abandon di questo mondo devenu di più in più impitoyable ma traversa del desert è per me per percevoir après coup di l'amore di Dio cari amici di fratello sono un combattivo amici amici fratello sono un combattivo come a voi ha conoscito la desesperazione e l'abandono in questo mondo che si ha convertito cada vez più senza piedà mi travesia nel deserto mi ha dato pie e mi ha permitito conoscere molto tempo il amor di Dio di precarietà e abbandono la quali il Signore ci ha chiamato per poter a quelli che sanno ascoltare la sua chiamata e sanno buscare la sua chiamata perché dice busquennos con tutto il suo coraggio e io mi farò incontrare ho un grande desiderio di me faccio a 60 anni io che venivo di una famiglia e Gesù mi ha transformato nel punto di desiderare la santità a l'età di 60 anni ho provato un grande desiderio a l'età di 60 anni ho sentito un grande desiderio di bautizzarmi io che provenivo di una famiglia atea e Gesù mi ha transformato nel punto di desiderare la santità e lo che ho 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 è non potrezzare a Dio nelle tentazioni e non potrezzare a te invocare, mio Dio e ciò di cui ho temore è esattamente di non poter di non poter di non poter superare l'età di non poter per qui, per a me e per a tutti che siamo riuniti e che ti posso pedire è che a Ti, Virgen Santissima poter pensare sempre a Ti e poter te invocare Maria, aiutame Maria, ven mi auxilio mio caro Papa Francesco mi querido Papa Francesco tambien nosotros continuaremos sempre rezando por Ti con todo nuestro corazón este ha sido el testimonio de Gabriel Barbier de Francia e de como a una tarde dada ha sentido ese deseo de poder querer ser bautizado e tambien aspirar a la santidad che ora intercambia un saludo e un rosario con il Papa Francesco in questo di testimonio e orazione nella giornata mondiale dei pobres ora ascoltaremo un testimonio in Polo mio nome è Sebastiano ho 37 anni mio vitae da 16 anni mi vitae che mi ha chiamato in una famiglia e ero in una famiglia in una famiglia a 16 anni ho provato narcotica e l'alcoho e la mia famiglia erano i miei amici santo padre mi chiamo Sebastiano tengo 37 anni mi vita e la mia famiglia era normale ho cresciuto in una famiglia catolica a la edad di 16 anni ho provato la droga e il alcol e i miei amici se diventaron in una famiglia mi vitae mi ha chiamato con la mia famiglia mi ha chiamato con la mia famiglia e altri mi ha chiamato lo che è bene e lo che è zale mi ha chiamato la detox la terapia ma ho chiamato tutto mi ha chiamato lo che è bene mi ha chiamato mi ha chiamato la mia famiglia e la mia famiglia sono iniziati i problemi con la legge perdi il respeto per mi e per i altres e deixo di distinguir lo che era buono e lo malo lamentablemente tutto se complicava e era peor con le persone felici, con le famiglie, con le famiglie, con le famiglie. Alla fine ho smesso, ho amesso, che da solo non ho faccio. Mi ho detenito ante Dio, così come sono. Suplicavo a Dio per dare una vita nuova, e una volta, Dio non mi ha girato la spalla, e mi ha fatto vedere una vita estable, ma non necessariamente felice. La grazia di Dio è la mia esperienza quotidiana, è una cosa così bella di ogni giorno che non posso descrivere con le mie parole. Quando avevo in mente le ricordi di me stesso, quando dormia nelle banche dei parchi, ero stava sucio, e Dio mi permette riconoscere con le mie parole. Adesso mi odiava e ora mi accetto, e grazie a Dio voglio cambiare la mia vita. oggi mi sento una persona libera, che vuole a si stesso e a gli altri a través del amor di Dio. Sono consciente che mi spera molto lavoro sobre mi stesso. Amén. Questo è stato il testamento di Sebastiano Olsack, di Polonia, che ha descritto questa esperienza e le diverse etapiche che ha attraversato in sua vita. Acompañiamo questo testamento che il Papa Francisco ha ascoltato, anche ascoltando e interiorizzando a través del canto. Acompañiamo questo testamento che il Papa Francisco ha ascoltato, di Albionese a Dio. Acompañiamo questo testamento che il Papa Francisco ha ascoltato, a Dio. Tu hai accoltato, a Dio. A Dio. E io ti amo. Non dimenticare, perché sono con te. E io ti amo. vieno di Umbria, però queste persone vieno di altri paesi. Escuchiamo a Farzana Razzavi di Afganistano e a Kederi Abdul Razak di Iraq e altre persone di Romania. Salam a tutti. Salam a tutti i figli di Afganistano e a tutti i figli di Afganistano. Salam a tutti i figli di Afganistano e a tutti i figli di Afganistano. Salam a tutti. Salam a tutti i figli di Afganistano. 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 Sono contenta di essere in Italia e di essere salvata, ma sono preoccupata per la mia famiglia, per il popolo afghano, e non so come sta passando la vita in questo periodo duro. La mia famiglia è una società maschista, è una società maschista, e ancora vive sotto pressione, soprattutto io che sono una descendencia shiita, e anche sono shiita, e avevo tantissime difficoltà in Afghanistan. I ammissima I ammissima i nostri amici, e i nostri amici, e i nostri amici, e i nostri amici, e i nostri amici, mi ringrazio, e i nostri amici, e i nostri amici, che ci sono attivano a noi, e ci sono spettate in mezzo. Io ringrazio l'Italia, le forze armate italiane, e le forze armate italiane, che ci hanno aiutato, e ci hanno salvato. Agradezco l'Italia, per avermi accogito. Io sono in questo momento, in Italia, un mondo che si è arrivato, che si è arrivato, con la storia, la storia e la scuola, la fottoblione, Non potrebbe essere un'attività e un'attività, ma Italia e un'attività nazionale. Adesso mi trovo in Italia, in questo bellissimo paese. Ora mi trovo in Italia, in questo bello paese, di grande cultura e civilizzazione. di grande cultura, di grande cultura, di grande cultura. e di grande cultura, per essere un'attività di grande cultura. E l'Italia. I talibani hanno invadito l'Afghanistan, ma io sono in Italia, e ho provato di una nuova vita, e per me rendere una persona utile per me, per la mia famiglia, e per la mia famiglia, e per la mia famiglia che mi ha accogito. ho i ammettere. Noi, ho che viviamo in Italia, l'Afghanistan, gozze e come a una nuova vita. Questa è una nuova vita. magari la Donna, le forse, le forse, le forse. le forse, le forse, le forse, le forse! Lamentablemente la vita del pueblo afgano se ha convertito en una desgracia se tiene que soportar la presenza de los talibanes y además de eso la pobreza y el hambre que están atravesando en Afganistán que los pueblos, los pueblos, los pueblos y los pueblos, los pueblos, los pueblos tienen un punto de vista de un cambio de riesgo y de todos los pueblos y el Afganistán no se han logrado Espero que la comunidad internacional adopte una actitud diferente para resolver esta situación y no abandonar al pueblo afgano Gracias por su apoyo por su apoyo y por su apoyo a los pueblos y a los pueblos que han sido 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 una joven studiante che ha stato possibile quando estallò il conflitto a través di un corredor humanitario che ha arrivato a Italia per poter continuare i sui studi e come abbiamo ascoltato su testimonio di poter essere utile a lei, a la società e a la sua famiglia. Ora si fa un momento di pausa e se deixa a le persone un po' reflexionare interiorizzare questi testimonios di tutte le persone che hanno participato e vamos ascoltando questo canto che il coro nos propone. Benissi il Seigneur Benissi il Seigneur Benissi il Seigneur Oh, les anges du Seigneur, bennissez le Seigneur. Alla lì, l'orange poteva, bennissez le Seigneur, bennissez le Seigneur. Niccoli Giovanni e Tia, bennissez le Seigneur. Santi e Santé di Dio, bennissez le Seigneur. Alla lì, l'orange poteva, bennissez le Seigneur, bennissez le Seigneur, bennissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, bennissez le Seigneur. Tous souffles et vents, bennissez le Seigneur. Et vous, le feu et la chaleur, bennissez le Seigneur. Et vous, la fricheur et le froid, bennissez le Seigneur, bennissez le Seigneur. L'orange poteva, bennissez le Seigneur, bennissez le Seigneur. Bennissez le Seigneur, bennissez le Seigneur. Bennissez le Seigneur. Estimados amigos, les dejamos un momento con el coro y hacemos una pausa en la transmisión hasta que el Papa Francisco regrese aquí al interior de la Basílica de Santa María de Los Ángeles en Asís. Nos volvemos a encontrar en breves momentos. Hasta pronto. Bénissez le Seigneur, bennissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, bennissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, bennissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Grazie a tutti. 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 Noi stavamo in peligro. Incluso uno dei nostri figli fu fu asesinato per i talibani. Grazie al governo italiano che ci ha salvato e ci ha aiutato a salire da Afganistà. Grazie a tutti i nostri amici. Sobretutto grazie a la Iglesia Catolica e a Caritas che ci ha aiutato molto e ci ha aiutato come i sui padri. qui ci stanno aiutando a risolvere tutti i nostri problemi qui ci stanno aiutando a risolvere tutti i nostri problemi e a llevar una vita più tranquilla e segura abbiamo una grande preoccupazione perché i nostri figli, alcuni di loro, si hanno quedato in Afghanistan e siamo molto preoccupati per loro questi quattro figli sono due uomini e due uomini tra 20 e 24 anni e sono abbandonati in Afghanistan e ci stanno aiutando a tutti i nostri figli che si hanno quedato in Afghanistan abbandonati vi ringrazio tanto per il vostro aiuto e per la vostra... les agradecemos molto per questa aiuta e per la sua humanità grazie 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 a tutti i suoi figli a causa della guerra stanno ancora e chiedono l'aiuto del Santo Padre e delle instituzioni per poter riunirli a tutti in un luogo sicuro di questa maniera siamo arrivati al final dei testimoni che abbiamo potuto ascoltare il giorno di oggi di persone di diversi paesi che hanno attraversato diverse situazioni di vita e che oggi stanno partendo con noi su esperienza anche se i miei dolori sono fortissimi querido Santo Padre a pesar di che i miei dolori sono forti sto con molti inflamazioni e qui in questa silla sto contenta di essere qui di conoscerlo personalmente sono una ragazza rumena sono una joven di Romania mi chiamo Mariana tengo 43 anni e ho arrivato a Italia 15 anni fa e ho arrivato a Italia 15 anni fa e per la volontà di mio sposo e contro la mia volontà e contro la mia volontà non ho lasciato a miei figli non ho lasciato a miei figli in la búsqueda di una vita migliore di una vita migliore di la pobreza in cui vivia nel 2008 ho perduto a miei figli dopo una breve e grave enfermedad sono tornata ho tornato a Rumania per stare con mio marito e i figli per stare con mio sposo e i figli dopo la morte di mio marito dopo la morte di mio sposo ho tornato a miei figli e ho tornato a Italia per vivere qui qualche anno dopo ho iniziato il mio drama un poco algunos anni fa ha empezato mi drama una enfermedad dolorosa che mi ha atacato in la colonna lumbar lo sembrava un dolore benigno che provenia di un tumor e poi ha sido devastador che ha cambiato mi vita familiare e anche mi lavoro mi ha accontato che mi ha accontato che mi ti hanno fatto una operazione per risolvere la mia malattia per risolvere questa enfermedad che mi ha provocare una grave paràlisi che mi obliga a star in questa semi-enfermedia che mi provoca dolore che non passano e che non mi da e che le fattano non mi possono aiutare ho fatto altri dieci interventi Ho realizzato 10 operazioni per cercare di migliorare la mia condizione, ma senza risultato. Non avevo soldi, non avevo dinero e non potevo provare a miei due piccoli. Non era sempre. A un certo punto, sono stata constreta a che a mell'obbligare a deixare il lavoro con una gran desesperazione. Però aquí, aquí atrás, hai una persona che sape in mio corazon, che mi dica che sempre la providencia di Dio non abandona, Mariana. L'ideal Caritas. L'ideal Caritas. Caritas. Ano. Ano cominciato a ayudarme. Ano cominciato a ayudarme. quando ha sabido o se enteraron de mi caso, con i paqueti alimentari, con i paqueti alimentari, e con otras ayudas, aiudas econômicas, che mi hanno permitito seguir adelante di un modo digno. Grazie a alcuni dottori, Grazie a alcuni medici che Dio ha messo in mezzo, ho fatto molte cose che costavano molto, che costavano molto, che costavano molto, ma loro lo hanno fatto gratis. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti per la casa. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti i fratelli e sorelle. Grazie a tutti. 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 l'escucho in la orazione, in le testimonio che abbiamo ascoltato. Un altro fatto importante, qui in la porciuncula, San Francisco acogio a Santa Clara, a los primi fratelli e a molti pobres che accogliano a lui. Con sencillez los recebìa come hermanos e hermanas, compartendo tutto con loro. E' l'expressione più evangélica che siamo chiamati a fare noi, accogliere, accogliere significa abrir la porta, la porta della casa e la porta del corazone e deixar entrer a los che chiamano e che sientano a gusto, non assombrati, sino a su gusto, libri. Donde hai un vero senso di fraternità, hai tambien la experiencia sincera della accogida. En cambio, donde hai miedo a los demás, desprecio por su vida, entonces nace il rechazo, o peor, la indiferencia. Ese mirare a un altro lado, la accogida genera un sentimento de comunità, il rechazo, o per il contrario, la indiferencia, se encierra nel proprio egoïsmo. La madre Teresa, che aveva fatto della sua vita, la madre Teresa che hizo di sua vita un servizio di hospitalità, le gustava dire, qual è la miglior benvenida? Una sonrisa. Una sonrisa. Compartire una sonrisa con alguien che sta necessitando è buono. Para per me e per l'altro. La sonrisa come un'expressione di simpatia, di ternura. Incluso la sonrisa te involucra e tu non ti puoi alejar da la persona a la qual hai fatto un sonriso. grazie perché siete venuti qui... desagradezco perché hanno venito qui desde tantos paesi differenti per vivere questa esperienza di encuentro e di fe. E vorrei ringraziare a Dio che ha dato questa idea di della giornata dei pobri. Una idea nata... una idea nata... un po' di forma extraña... in una sacristia... in una sacristia... io ero per celebrare la misa... e uno di voi... e uno di voi... se chiama Etienne... ed è un enfant terribile... un enfant terribile... Etienne me ha dato unottuto... mi ha dato unottuto... un'ottio sugerimento... ma chiamare la giornata dei pobri. io salli e senti il Espiritu Santo dentro che d'à dire che hai che farlo... Così comienzo, con la valentia di uno di voi, che ha avuto il coraggio di portare avanti le cose. Agradezco il lavoro, il lavoro di molti che lo accompagnano. E vorrei ringraziare, disculpe eminencia, la presenza del cardenal. Lui è fra i poveri, anche lui ha sufrito con dignità la esperienza della poverza, l'abandono, la desconfianza. E lui si è difeso con il silenzio e la preghiera. Grazie, Cardenal Barbarin, per il testimonio che edifica la Iglesia. Diciamo che siamo venuti per incontrarsi. Diciamo che abbiamo venuto per incontrarsi, è dire, l'unico con l'altro con il coraggio abierto e la mano tendita. Sabiamo che ogni uno di noi necessita al l'altro. Può diventare una forza che migliora il mondo. Può diventare una forza che migliora il mondo. A menudo la presenza dei poveri si ve con fastidio e si aguanta. A volte ommos diciamo che i responsabili della povera sono i poveri. È un insulto più. Per non fare un serio examen di concienza sui proprii atti, sui atti, sui atti di certi leggi e leggi e leggi economiche, un examen di concienza sui la ipocrazia, di quelli che vogliono riconoscere senza medida, eche la culpazione a gli più debili. È il tempo invece che i poveri si ha restituito la parola. È il tempo che i poveri si volvano a tenere voce, perché durante demasiado tempo sus demandas non hanno stato ascoltate. È il tempo che si abbrano gli occhi per vedere il stato di disigualdazione in cui vivono tantissime famiglia. È il tempo di arremangarsi le mangi per recuperare la dignità, creando posti di lavoro. È il tempo che si tornino a scandalizzare in raggiungere la raggiungere la ragione di raggiungere la ragione di bambini, la scataglia di bambini, i rifiutti di naufragi, i vittimenti inocenti di ogni antipo di violenza, è il tempo che quando si corrisse la violenza cese contro le donne e che non sia rispettata e non sia trattata come mercanzia è ora di rompere il círculo della indiferenza e di riconoscere di nuovo la bellezza del encuentro e del dialogo è tempo di incontrarci è il momento del encuentro se l'umanità, se noi, uomini e donne se l'umanità, se noi, uomini e donne permanecemo firmes iremo hacia un fin molto triste ho ascoltato con attenzione le vostre testimonianza e le dico grazie per tutto quello che hanno mostrato con valor e sincerità valentia perché hanno querido compartirli con tutti noi, anche formen parte di loro e le dico sincerità perché lo muestran e si dann a conoscer tal come sono e abren i nostri corazoni con il deseo di essere comprenditi ci sono alcune cose che mi sono piaciute la marginazione il sufrimiento della enfermedad la soledà la manca la falta di e le dico impedito mirar con ojos llenos de gratitud las pequeñas cosas que han que les han permitido resistir resistir este la segunda impresión que ha recibido y que deriva precisamente de la esperanza que significa resistir tener la fuerza para seguir adelante a pesar de todo ir contra corriente la resistencia no es una acción pasiva al contrario requiere el valor de emprender un nuevo camino sabiendo que dará sus frutos resistir significa encontrar razones para no rendirse ante las dificultades sabiendo que no las vivimos solos sino juntos y que solo juntos podemos superarlas resiste resistir a toda tentación de abandonar y caer en la soledad o en la tristeza resistir agarrándose de las pequeñas o pocas riquezas que podemos tener pienso en la muchacha del afganistán y su frase mi cuerpo está acá y mi alma está allá resistir con la memoria hoy pienso en la mamá de rumanía los dolores la esperanza y que no ve la salida y la esperanza fuerte en los hijos que la acompañan que le devuelven la ternura que le han dado ella pidamos al señor que nos ayude a encontrar siempre la serenidad y la alegría aquí en la porcíncula san francisco nos enseña la alegría que supone mirar a los que nos rodea como compañeros de viaje que nos comprenden y nos apoyan al igual que nosotros lo hacemos con él o ella que este encuentro abra los corazones de todos nosotros para ponernos a disposición a ponernos a disposición los unos de los otros abrir el corazón para hacer de nuestra debilidad una fuerza que nos ayude a seguir en el camino de la vida para transformar nuestra pobreza en una riqueza a compartir y así mejorar el mundo la jornada de los pobres gracias a los pobres que abren su corazón para darnos su riqueza y sanar nuestro corazón herido gracias por esta valentía gracias a ti en porque ha sido dócil a la inspiración del espíritu santo gracias por estos años de trabajo y también de de insistencia para traer al papa asís gracias gracias eminencia por su apoyo por su ayuda a este movimiento a este movimiento de iglesia movimiento porque se mueve gracias por su testimonio y gracias a todos los llevo en mi corazón y por por favor no se olviden de rezar por mí porque yo también tengo mis propias pobrezas y son muchas gracias con esta invitación de abrir nuestro corazón de extender la mano hacia las personas más necesitadas concluye la reflexión las palabras que el papa francisco ha dirigido a los pobres en esta quinta jornada mundial de los pobres que se han dado cita aquí en la basílica de santa maría de los ángeles en asís ha respondido a las inquietudes de los testimonios que hemos escuchado de estas personas de diferentes partes de europa presentes con su experiencia de vida presentes con su forma de vivir el papa los ha animado a ellos a no perder esa esperanza mantener siempre activa esa alegría pero también nos ha invitado a nosotros a poder abrir nuestra corazón y a extender nuestra mano para poder ir al encuentro de estas personas meditemos sus palabras acompañados del canto a nosotros la puerta siempre grande uberta la mern pc a consoler Noi te déposiamo il nostro perdono, il nostro paese, il nostro figlio e il nostro vero. Noi te vi ringrazio che Gesù è il nostro paese, il nostro figlio e il nostro figlio, il nostro figlio e il nostro figlio e il nostro figlio. e la donna di sole richieste Gesù mi lo denio Ora ci siamo a seguire con il momento di orazione guiados per il Papa Francisco in nome del Padre e del Hijo e del Espíritu Santo amén la paz este con ustedes y con tu espíritu hemos escuchado juntos las historias sobre como actua Dios en nuestras vidas inspirados por la vida de tantos santos y beatos que han dedicado su vida a los pobres y a los más abandonados especialmente en este lugar donde San Francisco Santa Clara y y el Beato Carlos Acutis los cuales siguieron la voz del Señor nos reunimos ahora en un momento de escucha de la palabra y de oración común al Padre a continuación se proclamará el pasaje de los Hechos de los Apóstoles en aquellos días Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada la Hermosa para pedir limosna a los que entraban cuando él vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar en el templo les pidió una limosna entonces Pedro fijando la mirada en él lo mismo que Juan le dijo míranos el hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero te doy lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina y tomándolo de la mano derecha lo levantó de inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar y entró con ellos en el templo caminando saltando y glorificando a Dios toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado en la puerta del templo llamada la hermosa y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que había sucedido a la lectura de los hechos de los apóstoles capítulo 3 versículos del 1 al 10 respondemos con el canto canta aleluya al Señor cant aleluya cant aleluya cant aleluya cant aleluya al Señor sing aleluya to the Lord sing aleluya to the Lord sing aleluya 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 del evangelio sing aleluya decían unos a otros. Perché se desperdicia este perfume? Podia haberse vendito por más de 300 denarios per aiutare a los pobres e criticaban a la mujer. Però è bello il gesto che la faccia per me. Dijenla. Perché la molestano? Lo che ha fatto conmigo è buono, perché a los pobres sempre lo tendranno entre loro e potranno farlo bene quando vogliono. Però a mi non sempre me tendranno. Esta mujer ha fatto lo che ha podito. Ha perfumato de antemano mi corpo per mi entierro. Amén. Les aseguro che in qualche lugar del mondo dove se annuncia il Evangelio se hablarà tambien di lo che ha fatto questa mujer e così sarà recordata. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri amici. 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 Grazie a tutti. 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 membri delle diverse instituzioni e associazioni caratteristiche che hanno fatto lo possibile per poter arrivare fino a qui con un gruppo di persone che attivano e che servono. Il Santo Padre comincia a salutare i volontari, i operatori assistenti, i sanitari e anche a tutte le persone che hanno partecipato in questo momento di testimonio, incontro, con motivo della giornata mondiale dei pobri. Ha sido tocante, ha sido bastante emocionante los testimonios che abbiamo ascoltato a lo largo di questa mattina. Il Papa Francisco, come dicevamo al inizio della trasmission, ha arrivato molto temprano a Asis, ha visitato a las hermanas Clarissas antes di poter dirigirsi qui a la Basilica di Santa Maria di Los Angeles, ha compartito con ella un momento di orazione e di encuentro, las ha salutato e in seguida si ha dirigito a questa piccina iglesia di la Porcíncula, in cui ha tenido questo momento di testimonio, di encuentro e di orazione. Il Papa Francisco ha ascoltato attentamente i sei testimonios di persone di Polonia, di di Rumania, di Francia, anche di questa parella di esposi misionerati che lavorano in le periferie di Parigi. Ci sono testimonios che ci parlano di differenti realità della società in cui la pobretà sta presente. Pobretà che, come dicevamo in suo messaggio, si ha agravato questo ultimo anno con la pandemia del coronavirus. Ci sono persone che hanno perduto il lavoro, persone che non possono mantenere i loro famiglii e che ora sono stati aiutati da qualche modo per la Iglesia e per tutte queste instituzioni che lavorano in bene questi ragazzi e i hermanas necessitati. Però anche la pobretà a cui si ha referito il Papa Francisco ha stato una pobretà espiritual. di cui tutti abbiamo qualcosa che abbiamo bisogno, dice il Santo Padre, e al final ha pedito anche in suo discorso finale, ha detto, prego per me che ho anche molti pobretà. La invitazione finale è questa di aprire il coraggio e estendere la mano, come lo vediamo in il logo di questa quinta giornata mondiale dei pobreti. Una persona che tocca la porta, che extiende la mano, altra persona che apre la porta e che anche extiende la mano. Ese è la attitud con la quali hai che vivere questa giornata e les ringraziamo per aver stato con noi, invitiamo a realizzare questi atti concreti al quale il Papa nos invita e anche a participar in la celebrazione della Santa Misa este domingo 14 di noviembre a le 10 di mattia in transmissione per Vatican News a le 10 di mattia a le 10 di mattia da la Basilica di San Pedro. A nome di Renato Martínez e di tutto il gruppo di Vatican News, ringraziamo per aver stato con nostro. Les deseiamo un buon fin di settimana e les deixiamo con queste immagini del Papa Francisco che sta salutando a tutti i pobreti che si hanno congregato qui in la Basilica di Santa Maria di Los Angeles, in Asis. Que tengan un buon giorno. Laudetur Jesu Christus, alabato sia Jesucristo. Laudetur Jesu Christus, alabato sia Jesucristo. Laudetur Jesu Christus, alabato sia Jesu Christus, alabato anche di terroristi aりました차 Make什么Watchц zu Ave Maria, glacia plena, Dominus benedetto, benedicta tu. Ave Maria, glacia plena, Dominus benedetto, benedicta tu.